Ben ritrovati amici di YouTube qui sul mio canale per un altro appuntamento tutto dedicato al calciomercato è venerdì, stiamo per avvicinarci, ci stiamo proprio in quando al fine settimana, weekend, i operatori tireranno un po' il fiato vedremo perché poi andranno sicuramente molti al mare, località turistica, chi è a Marbella, chi è a Ibiza, chi è a Formentera qualcun amico, nonostantissime anche nella nostra Italia, soprattutto tra Forte dei Marmi e Rivera Romagnola una chiacchierata tira l'altra però perché poi vanno un po' tutti negli stessi posti, ci si incontra tra un pranzo, una cena, un aperitivo e è sempre occasione per parlare di mercato, per trattare, per impostare affari, discutere di eventuali operazioni allora tanti temi, novità importanti di Milan, Inter, Juve, ma non solo partiamo partiamo da Valentin Carboni perché Valentin Carboni, che fa sempre tanto discutere, è vicino fa discutere i social più che altro sulla valutazione è così forte, non è così forte, vale quei soldi, li vale, sì, no, forse perché intanto è pronto in pic Marsiglia di Roberto De Zerbi a prenderlo De Zerbi lo vuole fortemente, a tutti i costi ha già parlato con il ragazzo che è convinto, che ha dato la sua disponibilità, Valentin Carboni può sbarcare all'OM in Ligan questi termini dell'operazione, un prestito oneroso con diritto di riscatto per un pacchetto complessivo da 35-36 milioni qualora dovesse essere riscattato naturalmente il giovane talento classe 2005 ma, e il mai doveroso, avversativo, l'Inter non vuole perdere il controllo sul giocatore l'Inter ha delle idee chiare, Carboni potenzialmente è un crack è un talento destinato a diventare un campione tanto che Lionel Scaloni, il CT dell'Argentina che sta vincendo tutto, ha lasciato a casa Di Bala nell'ultima Coppa America e come vice Messi ha portato Carboni a dimostrazione della considerazione di cui gode il classe 2005 a livello internazionale certo, la proposta del Marsiglia, un prestito oneroso che può essere 4-5-6 milioni utilissimi per il bilancio attuale, magari per fare l'ultimo colpettino famoso braccetto di sinistra come vice bastoni più un riscatto importante nell'ordine dei 29-30-31 milioni per un pacchetto da 35-36 fa molto gola soprattutto se il Marsiglia, e questo è l'ultimo step che manca accetterà seguitemi bene anche perché per Carboni è pronto un quinquennale da 1,5% più bonus a salire soprattutto se l'Olympic Marsiglia accetterà di lasciare all'Inter un'opzione di riacquisto da capire se valida già dall'estate 2025 o se più probabilmente dall'estate 2026 ma un'opzione di riacquisto a 40 milioni quindi che incassi 35-36 lo puoi riacquistare a 40 è un grande affare di fatto ballano 4-5 milioni ma se il giocatore esplode 4-5 milioni non sono nulla se non esplode a quel punto e Marsiglia lo riscatta hai fatto comunque una grande operazione a livello di entrata questa è l'Inter vedremo se l'Olymp accetterà sono ore calde 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 sono ore calde 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 anche per il Milan che il Milan si sta rifacendo il look in difesa 1-2 acquisti 1 sicuro come difensore centrale tutte le strade portano a Pavlovich vecchio pallino vecchio obiettivo del club rosso nero il Milan è arrivato a quota 20 milioni per Pavlovich il Salzburgo ne chiede ancora qualcuno in più 22-23 ma il Milan è fiducioso che a 20 si possa chiudere magari inserendo un paio di bonus o una piccola percentuale sulla futura vendita Pavlovich ha già detto sì al Milan in tutto e per tutto per un quinquennale da un milione e otto a stagione più del doppio di quanto prende attualmente al Sanisburgo si è parlato di inserimenti di altri club ma al momento in tal senso non abbiamo riscontri attenzione però il Milan può prendere Pavlovich ma non solo come difensore centrale molto dipende dal futuro di Malik Chao Chao che che se ne dica non è incedibile oggi l'idea del Milan è Tomori Pavlovich gabbia confermato che si ha propinto verso il rinnovo del contratto fino al 2028 e poi un altro centrale che può essere Chao ma se arriva un'offerta importante il Milan lo valuta 40 milioni poi la sensazione che magari a 35 più bonus lo vende ugualmente il tedesco può partire anche perché il Milan l'ha pagato 7 milioni quindi se lo vendi a 35 in due anni hai guadagnato 5 volte tanto l'investimento effettuato se lo vendi a 40 hai fatto tombola il Newcastle è interessato contatti già avviati il Newcastle ha già è capitata una prima offerta intorno ai 28-30 milioni deve alzare la posta ma l'interesse c'è quindi attenzione a Chao Newcastle da quel punto il Milan di difensore centrali ne prende due Pavlovich che è indirittura d'arrivo il Milan spera di chiudere già entro il weekend più un altro il Milan però non si ferma qui perché in difesa sta valutando e ne abbiamo parlato tante volte nei mesi scorsi e in queste settimane anche l'acquisto di un terzino destro c'è Calabria che però è in scadenza 2.025 quindi non è un giocatore che oggi ti dà certezze di presenza anche in futuro Fonseca e Florenzi che che ve ne dicano non hanno un grande feeling quindi Florenzi può partire è vero che a lui è stato impostato negli allenamenti come terzino adesso è stato provato lì però la sensazione che il Milan laddove ci fosse la possibilità col Tottenham che magari possa abbassare le richieste iniziali da 20 milioni a quel punto affonderebbe per il terzino ex Betis e attenzione perché è una trattativa questa che può entrare in dirittura d'arrivo attenzione però il Milan sta lavorando su più fronti anche sulle uscite attenzione alla situazione di Pobega attenzione alla situazione di Benasser attenzione alla situazione di Ali ma ne riparleremo facciamo un salto adesso in casa Juve dove i bianconeri sono al lavoro per un grande colpo anche oltre a Todiboh che è addirittura d'arrivo presto oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni e l'assalto a CoMiner settimana prossima con i denari arrivati da Oisen e da Suve mancano solo le ufficialità sono 48 milioni più alcuni bonus e percentuali sulle rivendite la Juve ci sta provando per l'esterno offensivo tedesco Karim Adeyemi Adeyemi che è un vecchio pallino di Giuntoli aperta parentesi Giuntoli è innamorato calcisticamente di Adeyemi dall'anno del lockdown dal 2020 aveva provato prendeva nell'estate 2020 quando Giuntoli era a Napoli quando Adeyemi giocava al Salisburgo poi alla fine le vie del mercato sono particolari la spuntata del Borussia Dortmund è sempre rimasto nei radar di Giuntoli che vorrebbe portare la Juve perché Karim Adeyemi è forte un 2002 a grandi margini di miglioramento a spessore internazionale ha giocato la Champions da protagonista col Borussia Dortmund arrivando sino alla finale salta l'uomo a qualità può essere l'esterno giusto piace tanto anche a Tiago Motta ovviamente Dortmund lo valuta 45 milioni tanti la Juve spera che il prezzo possa essere un po' abbassato a 35 più bonus magari una piccola percentuale sulla rivendita lavori in corso ma la Juve che ha già incontrato il papà agente dell'esterno classe 2002 fa sul serio e sarà un tema caldo nei prossimi giorni da finanziare con la cessione di Chiesa e di Kostic quindi Adeyemi Juve sarebbe un ulteriore colpo giusto conto di voi con Mainas per rendere la Juve da scudetto a livello Inter ditemi la vostra qui nei commenti opinioni pareri domande considerazioni anche sul Milan Pavlovich Emerson Royale con la cessione di Ciao cosa ne pensate e poi in chiave Inter Valentin Carboni va bene il sacrificio o ci puntereste ma con la recompra poi alla fine è un'operazione comunque vincente per il club nirazzurro voglio i vostri pareri domande considerazioni qui nei commenti in alto a destra la campanella da attivare per avere notifiche in temporale su ciò che viene prodotto e mandato online a sinistra mettete il like al video se vi è piaciuto schiacciate qui sul pollicione condividete il video su Twitter su Facebook su Instagram su Telegram nel chat di Whatsapp insomma dove vi pare TikTok andate e moltiplicatevi qui siamo meglio e qui ci divertiamo soprattutto se avete apprezzato e vi è piaciuto questo contenuto iscrivetevi al canale perché non costa nulla, zero fatica, non ci sono abbonamenti, non c'è spesa solo resa ovvero di essere in nostra compagnia tutti i giorni e da dove lo vogliate facendo un click qui iscrivendovi al canale vi aspetto mi raccomando ciao a tutti